Recentemente è stata approvata la pratica sull'affidamento alla Mai Energia del Servizio di Igiene Ambientale. Voi come Fratelli d'Italia avete espresso alcune critiche? Abbiamo espresso alcune critiche che non riguardano il progetto, nel senso che il Sindaco Biancheri e l'Assessore Nocita hanno fatto un buon lavoro nel progettare la raccolta differenziata spinta, il porta a porta, la pulizia della città con vari turni durante il giorno, quindi secondo me tendenzialmente si andrà a un miglioramento della situazione. Il nostro parere negativo sulla pratica è dovuto al fatto che non è stato provato in Consiglio, non sono state date le carte necessarie per capire se l'affidamento diretto ad Mai Energia costerà un euro di più o un euro di meno di un appalto con lo stesso progetto. Per questo motivo abbiamo votato contro, anche in considerazione del fatto che nella pratica non siamo riusciti a rilevare nessuna certezza per l'occupazione degli attuali dipendenti. Certamente troveranno tutti occupazioni, di questo ne siamo contenti, ma a mio parere con uno sforzo ulteriore nella pratica la Giunta avrebbe potuto inserire la certezza per i dipendenti attualmente in forza di transitare e di essere assunti da Mai Energia.